In questo video ti mostrerò quanto sia facile creare una presentazione video utilizzando foto e video su Wondershare Filmora 10. Continua a guardare! Ciao a tutti, sono JJ di Wondershare Filmora, qui per migliorare il tuo talento di creatore di video. Ti sei già iscritto al nostro canale? Se non l'hai già fatto, assicurati di farlo e premi il campanello di notifica, così sarai sempre aggiornato sulle nostre prossime uscite video. Ok, iniziamo! I video di presentazione sono un ottimo modo per utilizzare le tue riprese video e le tue riprese fotografiche per trasformarle in un fantastico video. Puoi creare una presentazione video per quasi ogni occasione, per un matrimonio, per una laurea, per un compleanno, sui tuoi animali domestici, sui tuoi amici o su un viaggio che hai fatto. La lista potrebbe continuare all'infinito. Innanzitutto avrai bisogno di Filmora 10. Se non hai aggiornato o scaricato Filmora 10, fai clic sul collegamento nella descrizione per farlo. Quindi importa le foto e i video che desideri mettere nella presentazione video su Filmora 10 e aggiungi le tue clip preferite alla timeline. Ora hai una base per la presentazione video. Potresti tecnicamente esportare il video anche ora, ma potrebbe essere un po' noioso, quindi usiamo alcune funzionalità di Filmora 10 per rendere più leggera la tua presentazione video. Iniziamo aggiungendo un titolo per l'inizio della presentazione da sfumare direttamente nel filmato. Per fare questo, trascino e rilascio il colore di esempio nero all'inizio del video. E poi il testo titolo 29 sopra il colore di esempio nero. Fai doppio clic sul testo per modificarlo e personalizzarlo. Puoi anche cambiare l'animazione del testo, ma mi piace quella attuale, quindi suggerisco di cambiare solo la durata dell'animazione andando nelle impostazioni avanzate e nella timeline di modifica del testo, trascinando l'animazione del testo verso la fine della timeline. Ora vorrei che il titolo si dissolvesse nel filmato, quindi sotto la scheda Transizione trovo la transizione Dissolvenza e la trascino tra il colore di esempio nero e la prima clip. Grazie a tutti! Per aggiungere questo brano alla timeline vorrei che la musica sia sincronizzata alle clip nella presentazione, quindi farò clic con il pulsante destro del mouse sul brano e selezionerò Rilevazione bit. Rilevazione bit rileverà i bit del brano e li contrassegnerà con dei marcatori che ti aiuteranno a vedere i momenti migliori in cui posizionare le clip in modo che vadano sincronizzate al ritmo del brano. L'abbinamento di una clip con la musica contribuirà a dare alla presentazione video una certa fluidità e a mantenere alto il coinvolgimento degli spettatori. Se vuoi saperne di più sul rilevamento, puoi vedere il collegamento video in descrizione. Ora sistemerò le clip in base ai marcatori delle battute del brano e taglierò il brano alla fine della presentazione. Ora potresti notare che alcuni video e foto non hanno le stesse dimensioni del progetto. Questo comporterà la comparsa di barre nere attorno alle clip. Per alcuni potrebbe essere un aspetto voluto, ma per chi volesse rimuovere le barre nere possiamo fare due cose. Puoi fare doppio clic sulla clip e nella finestra di modifica a sinistra sotto Trasforma puoi cambiare la dimensione della clip facendo scorrere il cursore sotto la scala. Questo ingrandirà l'immagine e rimuoverà tutte le barre nere attorno alla clip. Per le clip con ridimensionamento verticale, l'immagine potrebbe comportare di tagliare una parte davvero interessante che invece desideri mostrare nella presentazione. Quindi l'altro metodo consiste in andare sugli effetti in alto e sotto filtri e quindi mettere la sfocatura sfondo. Scegli lo stile di sfocatura dello sfondo che desideri e trascinalo sopra la clip verticale. Aggiungiamo ora alcune transizioni. Quando si mescolano insieme filmati e foto, a volte il passaggio da una clip video a una foto sembra un po' stridente. Quindi aggiungerò delle transizioni alla presentazione per rendere il passaggio più dolce, aggiungendo contemporaneamente un po' di movimento per gli spettatori. Filmora 10 ha molte transizioni incorporate, quindi tutto ciò che devi fare è trovarne una che ti piace e trascinarla tra le clip. E' inoltre possibile personalizzare le transizioni facendoci doppio clic sopra e cambiando la durata e la posizione della transizione. Se hai altre transizioni sulla timeline e non vuoi cambiarle tutte una alla volta, puoi anche fare clic su Applica a tutte e i cambiamenti verranno applicati a tutte le transizioni nella timeline. Ora aggiungiamo alcuni effetti. La presentazione sembra davvero buona, ma aggiungiamo alcuni extra per amalgamare tutto insieme. Vorrei aggiungere l'effetto pellicola vintage all'intera presentazione. Negli effetti aggiungi in alto, sotto la categoria Eredità, il filtro anni 70 e posizionalo sulla traccia superiore. Vorrei anche aggiungere un bagliore alla presentazione, quindi aggiungiamo questo filtro su un'altra traccia. Il bagliore è un po' troppo forte, quindi facci doppio clic sopra sulla timeline. Cambierò l'impostazione alfa con il cursore mettendolo a circa 20. Ci sono così tanti filtri e sovrapposizioni inclusi su Filmora 10, quindi gioca con i diversi effetti e trova l'atmosfera e lo stile giusti più adatti alla tua presentazione. Per completare la presentazione, vorrei una dissolvenza in uscita del video. Quindi, esattamente come abbiamo fatto per l'inizio, facciamo lo stesso alla fine, aggiungendo il colore di esempio nero e una transizione di dissolvenza tra l'ultima clip e il colore nero. Per sfumare la musica, basta fare doppio clic sulla clip musicale e nelle opzioni di modifica mettiamo dissolvenza in uscita. Spostiamo il cursore per ottenere una dissolvenza della musica in uscita uniforme. Diamo un'occhiata. E il gioco è fatto! Vuoi che ti mostriamo come creare un video per un evento speciale? Facci sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace, di iscriverti e di premere il campanello di notifica in modo da non perdere nessuno dei nostri nuovi video. Ci vediamo e continua a creare!